Senza reddito di cittadinanza ai nuovi poveri della pandemia e quanto emerge dal sesto rapporto sulle politiche contro la povertà presentato dalla Caritas italiana. Per Don Francesco Soddu, direttore di Caritas, si tratta di una misura che va mantenuta ma che deve essere riordinata. Luca Ciciriello. Più della metà delle persone in condizione di povertà non usufruisce del reddito di cittadinanza. Lo percepisce invece il 44% dei nuclei poveri, soprattutto inoccupati, persone senza un lavoro e che non percepiscono sussidi di disoccupazione o altre forme di sostegno al reddito. Dal reddito sono invece rimasti esclusi i nuovi poveri della pandemia, in particolare coppie giovani con figli minori e ci sono criticità nei percorsi di inclusione lavorativa. E' quanto emerge dal sesto rapporto sulle politiche contro la povertà di Caritas italiana, che ha effettuato un monitoraggio sul reddito di cittadinanza. Per Don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, si tratta di una misura che va mantenuta ma deve essere riordinata. Il rapporto individua alcune caratteristiche delle famiglie povere escluse, tendono a risiedere al nord, ad avere minori un richiedente straniero, risparmi in banca superiori alla soglia consentita. Attualmente sono escluse dalla possibilità di richiedere il reddito 4 famiglie straniere su 10. Dal punto di vista geografico, invece, al nord il numero delle famiglie che fruiscono del reddito è il 37% di quelle in povertà assoluta, nel centro il 69% e nel sud il 95%. Le condizioni di povertà ruotano attorno all'impossibilità di avere risorse adeguate per affrontare il soddisfacimento di tre bisogni fondamentali, acquisto di cibo, spese per la casa e bollette. Nonostante il reddito di cittadinanza, le difficoltà persistono in particolare nei casi in cui l'importo riconosciuto è estremamente basso oppure non adeguato rispetto ai bisogni di vita. Una delle criticità più segnalate è stata la sospensione del contributo al diciottesimo mese, per cui bisogna tornare alla Caritas o ad altre organizzazioni del privato sociali per chiedere di nuovo aiuto.